Pronto, guardia medica? E' la guardia medica? Mi sono fatto male tra le palle e il buco di culo, non mi ricordo come stiamo per la parte lì, mi fa male. Ah, non è la guardia medica? E' l'una pari. Ah, è l'una pari. Ah, no, scusi, scusi. Ma cerco mio riponte, che dentro che andava a prana parca, per che si trova lì? No, no, non è andato a Milano, che ci diventa. Giambra Marcangelo Anderoli si chiama, non ci so. Anderoli, Anderoli. Anche a lei, a culo già. Sì, no, non lo so, non lo finisci.